La parola di oggi è incetta. È un sostantivo che deriva dal verbo incettare, derivato dal latino inceptare, composto da in che dà l'idea del moto verso l'interno e capere che vuol dire prendere. Quindi il significato del verbo è appropriarsi, fare una raccolta e incetta la raccolta stessa. L'incetta al giorno d'oggi è condotta con metodica continuità per acquistare da più parti la maggiore quantità possibile di prodotti, facendone scorta, spesso con finalità lucrative o politiche, e quindi in genere è considerata moralmente discutibile. Infatti una raccolta sistematica di beni si fa in previsione di un aumento di prezzi o di una diminuzione della quantità disponibile di un determinato bene e quindi generalmente è organizzata a scopi speculativi. In realtà nel linguaggio militare ad esempio, per incetta si intende l'acquisto, non coatto e a prezzi concordati, di vettovaglie, materiali, mezzi, quadrupedi ecc. per esigenze militari. Generalmente in quantità rilevanti, in relazione alla durata dell'azione militare prevista, è quindi un'attività del tutto lecita, almeno l'incetta, l'attività militare, forse si potrebbe discutere. Oggi prevale però per questa parola il significato deteriore, anche perché, malgrado che il fenomeno fosse conosciuto anche anticamente, esso ebbe particolare importanza durante la seconda guerra mondiale, quando cominciarono a fare difetto sul mercato moltissimi prodotti, sia di uso alimentare sia di usi vari. Chi aveva disponibilità di denaro acquistava grandi quantità di prodotti, peggiorando la disponibilità per il resto della popolazione, provocando quindi un aumento dei prezzi e rivendendo poi la merce a prezzo maggiorato. Frasi quali, fare incetta di farina, d'olio, di grano o di zucchero, ricordano oggi periodi tristi e fenomeni speculativi. La parola viene usata anche in contesti diversi. In campo politico, ad esempio, quando si dice «quel personaggio politico ha fatto incetta di voti», non si parla solo di consenso popolare, ma generalmente si sottintende qualche manovra non necessariamente limpida, malgrado magari volendo alludere ad amicizie potenti e certamente non disinteressate. L'idea che trasmette la parola incetta è quella di una ricerca concitata, un mettere da parte piuttosto affannato e quindi un'immagine utilizzata anche per frasi ironiche. «Alle Olimpiadi faremo incetta di medaglie», dice il tifoso ironicamente, sconfortato dagli scalzi risultati degli atleti di casa. Oppure «quel personaggio sempre in mostra vuole fare incetta di onorificenze, di lodi, di amicizie utili». Il termine «fare incetta» è quindi sinonimo di accaparramento, di speculazione, di raccolta e acquisto della maggiore quantità disponibile di merce o di beni immateriali per un interesse personale. Arrivederci a presto con una nuova parola.